buongiorno da obiettivo news oggi 22 marzo santa lea di roma in tutto il pianeta si celebra la giornata mondiale dell'acqua e world water day la ricorrenza è stata istituita nel 1992 delle nazioni unite in occasione della conferenza di rio per ricordare a tutto il mondo l'importanza di questa risorsa la giornata di sensibilizzazione fa parte dell'agenda 21 il programma d'azione messo a punto dall'onu per uno sviluppo sostenibile del pianeta durante questa giornata le nazioni unite invitano i membri a promuovere attività concrete all'interno dei loro paesi per attirare l'attenzione del pubblico sui problemi più urgenti legati al consumo di acqua dall'accesso all'acqua dolce alla sostenibilità degli abitati acquatici secondo i rapporti onu attualmente 2 miliardi di persone vivono senza accesso all'acqua potabile uno degli obiettivi principali della giornata è ispirare l'azione per ottenere acqua e servizi igienici per tutti entro il 2030 sensibilizzando istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico mondiali e informazioni